Bene, abbiamo voglia di pizza ma magari non ci va di uscire oppure non ci va di accendere il forno perché fa caldo. Abbiamo la soluzione, sono Lisa di Vaccario Vettro Casa e ho il piacere di presentarvi questo nuovo prodotto di Larem, prodotto italiano per la cottura della pizza. Questo è il forno pizza Imperial di Larem. Ha una particolarità che ha la doppia fonte di calore. Abbiamo la fonte di calore sotto dove noi l'abbiamo mettendola sul fuoco e la fonte di calore superiore con la resistenza nel coperchio del forno pizza. Questo fa sì che abbiamo un'ottima trasmissione di calore sul fondo e sopra per la cottura sopra. E questo si traduce in una cottura perfetta in pochissimi minuti, pochi pochi minuti, 3, 4, 5 minuti al massimo per la cottura della pizza. Allora, questa versione che è completamente in fusione, innanzitutto vi voglio dire che voi la potete usare sul fuoco, la potete usare sulla piastra elettrica, la potete usare sull'induzione. Quindi è molto versatile da questo lato. Il materiale è tutto in fusione, quindi molto robusto, che ha un'ottima tenuta di calore. Ha un consumo di 1000 Watt, perché la resistenza superiore chiaramente ha un consumo di 1000 Watt, ma in 5 minuti vi assicuro che non ve ne accorgete. Questa versione oltretutto ha il vetro per controllare lo stato di cottura della pizza. Naturalmente possiamo non fare solo la pizza, possiamo cuocere la piadina, possiamo cuocere la carne. Ci permette di fare vari tipi di cottura. Come vi dico, è molto veloce, molto pratico e funziona veramente molto bene. È corredato della piastra per poter adagiare la pizza sulla piastra o riprenderla quando è cotta. In questo caso hanno dato la piastra in acciaio inossidabile. Bene, e adesso di seguito vi facciamo vedere la cottura della pizza. Ciao da Vaccaria Letto Casa. Bene, salve a tutti. Ora stiamo proprio facendo una prova. Stiamo mettendo alla prova il forno pizza di Larem, il modello Imperial. Forno pizza che come vedete si collega alla corrente e nello stesso tempo viene posizionato sulla fiamma. Sulla fiamma che può essere fiamma, può essere piastra elettrica, può essere piano e induzione. Bene, allora vediamo, intanto lo vediamo all'opera. Sta cucinando la pizza e devo dire che sta venendo molto bene. L'abbiamo messa su pochi minuti fa. Fra qualche minuto la togliamo. Due parole su questo apparecchio, su questo fornetto. È un fornetto completamente in metallo, in fusione d'alluminio, sia la piastra sotto che la calotta superiore. Ha un consumo di 1000 Watt, però considerate che la pizza si cuoce veramente in pochissimi minuti. È un prodotto italiano, made in Italy, della Larem, quindi un prodotto sicuro, un prodotto fatto molto bene e durevole. Ebbene, lo mettiamo alle provi, aspettiamo qualche minuto e sforniamo. A dopo. Ecco, sta ancora cuocendo e adesso la prendiamo fuori. Eccola qua! La mia paletta d'acciaio in dotazione con la macchina da pizza. Voilà! Bene, buona pizza a tutti con l'Arem. Ciao!